13. Non è una discussione mentale. C.D.A. Comunicazioni dell'entità A. Attraverso Corrado Piancastelli. CIP di Napoli. Alla domanda se con la meditazione si tende alla perfezione dello spirito e se la meditazione varia a seconda della religione professata, risponderemo che la meditazione è uguale per tutti i tipi umani, a qualunque religioni essi appartengano, in quanto la meditazione non è una discussione mentale, fatta in determinato modo e sospinta da determinati canoni fissi religiosi, ma è la proiezione dell'io verso la divinità. Quindi una proiezione la quale parta dal profondo dell'anima e si innalzi purissima verso la divinità, senza assoggettarsi ad alcun vincolo religioso. È la vera meditazione. Mentre essa non è influenzata dalla religione, va pur notato che la proiezione, poiché parte dall'io, si giova di una personalità spirituale che ha raggiunto un grado di maturità in virtù di determinate circostanze ambientali in cui trova posto anche la religione. Ora, alla domanda se la religione sia un nodio ostacolo all'evoluzione, rispondiamo che se essa è intesa come una scuola tale da guidare l'essere umano verso la concezione della divinità, inculcandogli alcuni canoni indispensabili del saper vivere morale e dell'amore per il Signore e per il prossimo, allora le diverse religioni si equivalgono in quanto, a parte l'esteriorità meccanica, dogmatica e formale, ravvisiamo in tutte una identica sostanza intesa ad inculcare l'amore verso il Dio, verso il prossimo ed intesa a far sì che l'individuo emerga dalla materia per proiettarsi verso l'infinito. Da questo punto di vista le religioni assolvono tutte il medesimo compito, guardando lo stesso fine nelle applicazioni e nell'insegnamento. Intervengono poi circostanze e fattori estranei a questi canoni, i quali sembrano apparentemente modificare il fine, ma in alcuni casi si tratta solo di un adattamento sociale storico o di un adattamento all'epoca e dalla psicologia dell'ambiente. Ogni religione tende a far sì che ciascun individuo senta il significato dentro di sé e lo manifesti in mezzo agli uomini. Aggiungeremo che la religione può rappresentare in alcuni casi un ostacolo all'evoluzione in quanto essa influisce sull'individuo al punto tale da non lasciare emergere in lui altre qualità. E la religione diventa altresì un ostacolo allorquando in essa subentri la fase dogmatica che non ammette la libera espansione intellettuale e spirituale, ma che soffoca lo spirito entro determinate spire dogmatiche dalle quali esso non può uscire se non cadendo, come si dice, in peccato mortale. Continua. Grazie. 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 Grazie.